A quasi una settimana dal rientro in zona gialla, è tempo per i ristoratori pesaresi di fare un bilancio sulle prime giornate di riapertura e di riattivazione del servizio a pranzo. Abbiamo fatto i ristoratori, siamo stati aperti e quindi, voglio dire, buono perché in qualche modo siamo tornati a lavorare, perché fino adesso non era lavoro. E' buono perché la gente ha risposto molto bene, la gente ha voglia di uscire e quindi è buono, però ecco si parla sempre di un 20% del fatturato perché chiudendo la sera in qualche modo noi siamo penalizzati. La priorità era ripartire, è chiaro che le limitazioni al posto di 100 persone nel fattispecie mia ne faremo 50 e quindi già lì ci siamo quasi a posto, però è chiaro che la situazione è comunque pesante, Io sono ottimista, non mi piace piangermi addosso, però andando a Caritroso, aver perso aprile maggio e adesso anche questa nuova fermata, perché proprio noi, ecco, io non voglio dire siamo partiti per primi, a chiudere, apriamo per ultimi. Io sono d'accordo con tutte le categorie, tutti ci sono stati penalizzati, però ecco già si facevi lavorare un po' la sera, qualcosina. Questi primi giorni posso dire che stanno andando abbastanza bene, anche perché probabilmente la gente è stanca di stare a casa e non frequentare i ristoranti. Ovvio che ci vuole, come solitamente accade in queste situazioni ed è accaduto dopo il lockdown precedente, ci vogliono una decina di giorni prima di ritornare ai regimi di lavoro precedenti. Nel ristorante mio specifico non ci lamentiamo perché lavoriamo con gente che lavora a sua volta e quindi il giorno, il locale è quasi pieno. Sensazioni positive anche in vista delle festività natalizie, con le prime telefonate e prenotazioni da parte dei clienti. Il Natale diciamo che c'è molto interesse, le telefonate ci sono, come tutti i Natali è una festa sentita. L'unico problema che c'è sostanzialmente è la divisione del tavolo perché più di 4 persone al stesso tavolo non possono stare, 6 sono congiunti e quindi diventerà un problema gestire famiglie un po' più numerose. Le prenotazioni di Natale non ci possiamo lamentare, noi faremo un menù molto tradizionale, senza presunzione. Io ormai ho qualche annetto, diciamo 40-41 stagioni, terminiamo le stagioni, quindi un po' lo zoccolo duro te lo ritrovi. Però, ripeto, ho visto, però è un'impressione mia, che un po' più di preoccupazione c'è in questo senso. La prospettiva è abbastanza buona, nel senso che ho ricevuto fino adesso un sacco di telefonate, di solito un buon 40-50% di queste telefonate si trasformano in prenotazioni. Il problema non è tanto quello della gente che non vuole venire al ristorante, ma più che altro si sente, hanno paura di entrare in un ambiente dove vengono a contatto con altre persone. Quindi hanno paura dell'affollamento, magari del sovraffollamento, anche se noi ovviamente rispettiamo tutta la normativa e quindi abbiamo tutte le distanze assicurate.